Benvenuti a questa nuova edizione di Licata News, in apertura ancora la cronaca, continuano a ritmo serrato le indagini dei carabinieri della compagnia di Licata per tentare di dare un volto e un nome all'autore dell'incendio che nella notte di Capodanno ha distrutto un autocarro funebre di proprietà della compagnia Aronica e Caico. Cambieremo poi completamente argomento, ci occuperemo di un'altra iniziativa della consulta giovanile che si terrà nel giorno dell'Epifania. Ancora ci siamo recati a Piano Mangiacasale dove si sta svolgendo l'iniziativa dell'associazione 92027 del titolo Aspettando la Befana. Chiusura con lo sport e il calcio, andiamo a vedere i servizi. Informatico, alberghiero, economico, una grande varietà di indirizzi per la tua crescita formativa. Pensa, sogna, credi. Iscriviti all'Istituto di Istruzione Superiore Re Capriata. Open Day fino al prossimo 28 gennaio. Dai circuiti di videosorveglianza di via Marianello e della zona del cimitero potrebbero a breve emergere novità importanti sull'ingendio che nella notte di Capodanno ha bruciato un carro funebre di proprietà dell'impresa Aronica e Caico e danneggiato parzialmente i locali all'ingresso della camera mortuaria. Le indagini dei carabinieri della compagnia edilicata agli ordini del capitano Augusto Petrocchi stanno infatti proseguendo al ritmo serrato e dopo aver sentito i titolari dell'impresa funebre vittima dell'intimidazione, le ricerche dei militari dell'arma si starebbero sempre più restringendo tanto da poter affermare che a breve potrebbero arrivare novità molto significative. L'area attorno all'impresa danneggiata è stata vivisezionata dai carabinieri e nessuna ipotesi investigativa viene al momento tralasciata. Le immagini registrate dagli occhi elettronici potrebbero a breve dare un volto ed un nome all'incendiario della notte di Capodanno. Ognuno dipinge il quadro della propria vita con i colori delle proprie scelte. Scegliete l'Inares, vi aspettiamo! Nuova iniziativa della consulta giovanile stavolta nel giorno dell'Epifania, spiegaci di che cosa si tratta. Noi della consulta giovanile di Licata in collaborazione con l'Associazione Procevista abbiamo organizzato un evento dal titolo Vivi e Talia che si terrà il 6 gennaio delle 5 del pomeriggio in poi ospitato dalla meravigliosa cornice del Chiostro San Francesco. Si tratta di un'esposizione dedicata agli artisti giovani licatesi e l'obiettivo è ancora una volta quello di valorizzare i talenti licatesi. Si tratta di artisti che operano in vari ambiti, anche lontani tra loro, dalle arti grafiche, quindi pittura, fotografia, grafiche, proiezioni, sino anche all'artigianato e ci saranno anche autori di testi. L'obiettivo quindi è quello, ancora una volta, di creare un punto di incontro per la collettività e dare spazio al talento dei giovani. Essendo poi un evento a conclusione delle feste natalizie, alle 19 arriverà anche la Befano a bordo di una 500 ed è prevista anche la possibilità di fare foto per grandi e bambini. La sede Unicursi dedicata è polo di studio autorizzato dell'università e campus. 5 facoltà, 60 corsi di laurea, master, perfezionamenti, 24 CIFU, certificazioni informatiche e linguistiche. Un tutor personale sempre a tuo fianco durante il percorso di studio. Vieni a trovarci o contattaci per scoprire la nuova offerta formativa e le esclusive promozioni in corso. Ieri 4 gennaio è stata la data dell'apertura dell'evento che ha fatto felici grandi e piccini. Aspettando la Befana è un villaggio enogastronomico dove è possibile gustare prodotti tipici locali, vino, birra alla spina e per i più piccoli tanti dolciumi, il tutto contornato da buona musica, giostrine e aria giochi gonfiabili. Il focus della manifestazione è ovviamente sui bambini, con tante piccole attrattive dedicate a loro per far sì che questo periodo natalizio, anche se in ritardo, gli regali qualche momento di svago e di divertimento all'aria aperta. Per l'occasione abbiamo sentito uno degli esponenti dell'associazione, Giuseppe Patti. Una Befana che porterà solo dolci per quest'anno, per questi bambini, quindi l'ente carbone. Scherzi a parte ci tenevamo a colorare un po' questo periodo natalizio con questo evento che abbiamo voluto fare alla Befana, proprio per chiudere questo periodo di festa e soprattutto in avvio del 2023 augurarci un anno migliore per la città e per tutti noi. Ci tenevamo, dopo aver organizzato per due anni Lanterna Feste ed essere stati stoppati dalla pandemia e dal Covid, volevamo ricominciare con questo piccolo segnale di presenza per la città. E comunque la città ha risposto presente perché c'è tanta gente che sin dal primo pomeriggio, da quando è stata aperta l'iniziativa, sta arrivando qui in piazza per permettere ai bambini di visitare. Sì, ne siamo contenti, significa che la città ha voglia di eventi, speriamo che tante altre associazioni seguano il nostro esempio, ma soprattutto speriamo anche di poter lavorare in sinergia con tutte le associazioni per poter creare altri eventi e per risvegliare un po' questa città un po' soppita. Noi saremo qui fino a sabato, ogni pomeriggio, dalle 17 alle 18 fino a sera, si mangia, si beve, ci si diverte e soprattutto tanta musica e tanta convivialità per i bambini. La Falegnameria Caico Arte Design è leader nel settore degli infissi in legno e della serramenta. La collaborazione con prestigiosissime ville italiane ne testimonia l'importanza dell'azienda. Veniteci a trovare in via salvo d'acquisto a Licata. Il Licata continua a lavorare sul campo in vista della difficile sfida di domenica in Calabria contro il Castrovillari. All'andata finì 1-0 per i calabresi nell'unica partita giocata da Giallo-Blu sul neutro di Ravanuse a porte chiuse. Fu un inizio complicato per i ragazzi di Pippo Romano che dopo quella partita ne persero altre due contro Vibonese e Catania. Adesso c'è ovviamente voglia di rivalsa come spiegato all'attaccante giallo-blu Calogero Minacori. Sì diciamo che queste fernatalizie ci hanno fatto riprendere un po' di energie, abbiamo recuperato qualche giocatore infortunato e adesso stiamo preparando la partita domenica che sarà sicuramente una partita importante dove noi abbiamo sicuramente voglia di rivalsa dopo la partita dell'andata. Minacori è uno dei senatori della squadra essendo già in rosa nella passata stagione. Fin qui un campionato in chiaroscuro per l'attaccante giallo-blu che ogni domenica lotta, si sacrifica, gioca con e per la squadra ma non riesce a incidere al punto di vista realizzativo. Fin qui infatti sono soltanto tre i gol segnati contro gli otto e lo scorso anno al termine del girone d'andata. A livello personale giudico la mia stagione diciamo bene, naturalmente si può sempre migliorare, rispetto all'anno scorso sicuramente ho fatto meno gol però ancora ci sono davanti tantissime partite, tantissime partite dove fare gol e fare soprattutto delle belle prestazioni. La stagione dal gol è normale che la soffro, l'attaccante vive bene il gol però per fortuna noi stiamo giocando bene, stanno arrivando risultati e credo che, come dico sempre, arriveranno anche gol. Benvenuti in farmacia Professionalità e servizi Lavoro di squadra Amici degli animali Veniteci a trovare! Amici degli animali Amici degli animali Amici degli animali Amici degli animali Amici degli animali